buongiorno su benvenuti in questo nuovo video oggi video in collaborazione con che paolo che paolo mi ha spedito un pacchettino con questi meravigliosi panni che adesso vi farò vedere ma con che paolo io ho già collaborato e avete già visto video con loro panni per lo swiffer che sono bellissimi che io uso sempre è un grandissimo risparmio perché non si comprano più i panni usa e getta si lavano in lavatrice sono in microfibra sono morbidissimi sono facili da mettere non si rubinano forza di lavarli aspettate che abbiamo ok all'interno troviamo questi panni bellissimo il colore sono più sottili rispetto a quelli che ho già e hanno una microfibra anche questa molto più sottile l'altra è più tipo spugna per farci capire fammi capire vi faccio vedere appunto dopo puliamo insieme qualcosa per farvi vedere questo all'interno e abbiamo 1 2 3 4 5 state perché mi è caduto 7 8 panni 8 panni più la sacca super comoda da metterli dentro e lavare il lavatrice separati separandoli dall'altro bucato e niente adesso vi lascio alla dimostrazione di quanto sono validi questi panni io ti adoro e non ne posso fare a meno e noi e non ne posso fare a meno Musica Sono perfetti anche per poter spolverare, come potete vedere, sono comodi da tenere in mano e si pulisce benissimo sia da asciutto che da bagnato. Cambio il panno, ne metto uno pulito, rovescio per terra un po' di latte per farvi vedere che assorbenza ha il panno. In un secondo ho assorbito tutta la parte liquida, ovviamente i miei cani sono super curiosoni e vogliono subito leccare quello che ho messo per terra. Vedete com'è pulito? Adesso lo tolgo, lo sciacquo bene, lo strizzo. Questi panni sono molto semplici e facili da utilizzare, si strizzano benissimo anche a mano senza bisogno di metterli in lavatrice. Lo ripongo appunto sullo swiffer, bello pulito e ovviamente lo ripasso sul pavimento per pulirlo perfettamente. Adesso ci metto su un pochino di detersivo per appunto pulire il latte caduto perché l'ho assorbito ma devo pulire perché sennò per terra rimane comunque il latte un po' spalmatino. E niente, vedete? Si pulisce perfettamente, è comodissimo anche per lavare il pavimento invece di usare il classico mocio. Una volta che ho finito di pulire li ripongo nella loro sacca, scusate se non si vede bene ma con una mano faccio un po' fatica. Vedete li metto dentro, chiudo la sacca. Metto in lavatrice, chiudo bene lo sportello, faccio un lavaggio veloce perché ovviamente ho messo solo i panni ma si può benissimo aggiungere all'altro bucato. e faccio partire il lavaggio. In pochi minuti i panni saranno puliti come potete vedere e si asciugano anche in fretta quindi super comodi. Lascio tutto in descrizione, mi raccomando date un occhio. Noi ci vediamo al prossimo video e ringrazio l'azienda per questa nuova collaborazione e prima di andare via. e raga facciamo festa. Sì, sì, ciao!